I massimi dirigenti della direzione compartimentale Sicilio-Orientale della Polizia Stradale di Catania sono giunti a Caltagirone per valutare alla luce dell'attività svolta dal locale di staccamento gli obiettivi raggiunti sui fronti sicurezza stradale, prevenzione e attività di informazione nelle scuole. Risultati peraltro suffragati nel 2011 da 20 arresti per vari reati, sequestra di diversi chilogrammi di sostanze stupefacenti e di circa 80 denunce a piede libero. Il distaccamento di Caltagirone è una realtà bellissima, bellissima perché riesce a svolgere tutta una serie di attività squisitamente, principalmente quelle istituzionali, ma riesce comunque a allargare la sua attività operativa anche nel campo della sicurezza stradale. Caltagirone riesce a distinguersi per questa sua disponibilità massima, per questa sua attenzione, devo dire, nell'attività che svolge, coinvolgendo anche i cittadini, coinvolgendo le istituzioni, coinvolgendo un po' tutti quanti. E questo è un dato di fatto, un merito che va a tutto vantaggio del qui presente, Ispettore Ruggeri, che comanda questo distaccamento ormai da diversi anni con risultati veramente notevoli ed eccezionali. Il distaccamento di Caltagirone si pone al servizio di un vasto territorio in considerazione della sua posizione geografica, solve una funzione strategica sul territorio, confinando peraltro con quattro province, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Verissimo quello che dice, funzione strategica, la presenza del distaccamento polizia stradale di Caltagirone in una zona come quella del Calatino, che guarda a più province, è una funzione predominante, quella della prevenzione da parte della polizia stradale su strade di grande collegamento che portano anche verso le due autostrade siciliane.